Ciao a tutti amici di Zooplanet, oggi ci occupiamo di gatti e bambini. Anche qui sono sempre gioie e dolori, perché non sempre vanno tanto d'accordo. A volte per colpa del gatto, a volte per colpa del bambino. Ma in tanti casi nasce una bellissima amicizia tra gatti e bambini, diventano praticamente inseparabili. Cerchiamo di capire come. Ma prima di guardare questo nuovo video c'è da fare una cosa importantissima. Iscriversi al canale di Zooplanet e mettete un like a questo video. State tranquilli anche questo è un video bellissimo, non vi deluderemo. Ogni settimana nuovi video dedicati al mondo degli animali per sapere sempre di più sui nostri amici di ogni giorno. Accendete la campanella, così sarete subito pronti a vedere il nuovo video. Ed ora siete pronti? Cominciamo! Il gatto, lo sappiamo bene, per natura è indipendente, vuole i suoi spazi, a volte vuole proprio essere lasciato in pace. Lo dimostra anche con qualche graffio o qualche morso. Ma ci sono razze di gatti che per carattere sono più adatti a fare amicizia con i bambini. Sono più pazienti e sopportano meglio le dolci torture dei cuccioli di uomo. Eccoci qui con una nuova classifica dedicata alla razza di gatto adatta a bambini e da giocare con loro. I gatti più pazienti del mondo. Sì, perché dei giorni con i bambini ci vuole molta pazienza. Al decimo posto il gatto bambolotto, lo dice anche il nome, è il ragdoll. Ragdoll infatti in inglese significa bambola di pezza. Per le famiglie che cercano un animale da compagnia, il ragdoll può essere la scelta migliore, forse è la razza di gatto più affettuosa in assoluto. Sono accomodanti e gentili e generalmente di buone maniere. Questi gatti tendono ad essere abbastanza grandi e hanno occhi blu molto luminosi. Sono amati per la loro abitudine di crollare nelle braccia della persona che li tiene, come una bambola. Il ragdoll ama molto la compagnia degli uomini, spesso li salutano alla porta e li seguono per tutta la casa. Questi gatti amano stare vicino alle loro famiglie in ogni momento e gli si può anche insegnare a prendere le cose o a venire quando vengono chiamati. Non amano dormire da soli e sono contenti di rannicchiarsi al vostro fianco di notte. Al nono posto un gatto africano davvero regale nell'aspetto e nell'andamento. Si pensa fosse il gatto prediletto dei faraoni egiziani. Parliamo del gatto abissino. La vita con un abissino non è mai noiosa. È un gatto molto energetico, affascinante, divertente e tanto tanto curioso. Non si fermano mai sono sempre a caccia, ma c'è anche il momento di mangiare o dormire. Sono intelligenti, leali e non hanno paura delle persone. I gatti abissini sono perfetti per le famiglie con bambini più grandi, i neonati ed i bambini molto piccoli a volte li spaventano. Gli abissini amano stare intorno alle persone, non amano stare in braccio alle persone. Attenzione, sono gatti furbi e manipolatori, sanno come ottenere quello che vogliono, anche dai vostri bambini. All'ottavo posto c'è il gigante buono dei gatti, perché il maschio può raggiungere gli 11 chili di peso. Ma non è aggressivo, anzi, ha proprio la pazienza di un santo. Quella che a volte serve con i bambini. Si tratta del Maine Coon. Sono gatti che amano stare con le persone ma amano anche avere i loro spazi e la loro indipendenza. I Maine Coon, sono sempre rilassati e tranquilli, vanno d'accordo con i bambini e gli altri animali domestici. Anche con l'avanzare degli anni mantengono la loro personalità di dolci gattini. La loro stazza può intimorire all'inizio, ma appena li conoscete un po' capirete perché sono tanto amati. Amichevoli con tutti, i Maine Coon sono ottimi per le famiglie numerose e sono anche usati come gatti terapeutici. Al settimo posto, troviamo il primo gatto asiatico della classifica e si tratta del gatto birmano. I birmani sono gatti attivi e giocosi, ma si calmano quando i loro compagni umani sono impegnati. Molto orientati a socializzare con le persone e dal carattere dolce, i gatti birmani desiderano il contatto ravvicinato con i loro compagni umani, perfetti come scaldapanca e sempre in grado di stupirvi con i loro giochi divertenti. Sono amici molto fedeli dei bambini per tutta la vita, anche quando crescono. Sono intelligenti ed imparano a fare tante cose. Sono gatti che amano tanto giocare e che non vogliono restare soli in casa. Gentili, pazienti e amorevoli, i birmani sono una scelta eccellente per le famiglie con bambini. Al sesto posto un gatto dal corpo muscoloso, di taglia medio e dal pelo corto, tra i più popolari negli Stati Uniti, l'American Shorter. La sua origine è abbastanza antica, era già molto comune nel continente americano nel 1600. È un gatto abbastanza attivo e con una personalità amichevole. Non richiede particolare cura per quanto riguarda pelo, occhi ed orecchie, va d'accordo con chiunque, umano o animale domestico. Se avete un giardino o avete problemi di topi dovete sapere che gli Shorter americani sono abili nel catturare i roditori, perciò problema risolto. Di carattere equilibrato, è famoso per la sua lealtà e sviluppa relazioni profonde con tutta la famiglia. Ama giocare con bambini ma se non ha voglia lasciatelo stare, ci sono momenti in cui vuole stare da solo. Al quinto posto tra i gatti che amano i bambini, il gatto dal pelo corto e grigio più popolare in Gran Bretagna, il British Shorter. Sono gatti di media taglia dal pelo morbidissimo, i bambini adorano accarezzare questi gatti che sembrano un peluche. Amano le coccole, ma senza essere presi in braccio. È la classica razza di gatto da tenere in casa, e per loro non è un problema stare soli per molte ore. Si adattano facilmente a vivere in famiglie numerosi, nessun problema a socializzare con altri animali, compresi i cani. Gioca volentieri con i bambini, ma se qualcosa non va, oppure si annoia se ne va a farsi una dormita da solo. Per il suo carattere mansueto è perfetto per la vita in famiglia. È il momento di vedere chi si trova in quarta posizione. Per trovare questo gatto bisogna prendere la nave per arrivare all'isola di Man, perché parliamo proprio del Manx. Dal carattere giocoso e devoto, il Manx, è un'altra delle migliori razze di gatti per bambini. Questo gatto è abbastanza attivo, di carattere simile ad un cane, ama giocare a prendere e seppellire i giocattoli, ed è affascinato dall'acqua. Di medie dimensioni, ma massiccio e potente, lo potete vedere correre e saltare molto in alto giocando per la casa. Si adatta ad ogni appartamento, è dolce e senza sbalzi di umore. Il Manx è un meraviglioso gatto per la famiglia. Ama stare in compagnia delle persone e gioca volentieri con i bambini. A questo punto mancano solo tre posizioni, quali saranno i gatti perfetti per i bambini? Sale sul gradino più basso del podio un altro gatto asiatico il Burmese. Si avete capito bene si chiama Burmese, e non va scambiato per il birmano che abbiamo trovato al settimo posto. È un gatto che sembra non crescere mai, giocoso e divertente sia giovanissimo che in tarda età. La razza del gatto Burmese è molto esigente, sono capaci di seguire i proprietari in giro per la casa piangendo per avere attenzione, chiedendo a gran voce di essere presi in braccio e coccolati. Pieni di spirito d'iniziativa, amano eseguire salti audaci in cima alla libreria, fermandosi solo per assicurarsi che il loro pubblico stia guardando. Sono anche chiamati, gatto-cane, perché spesso riportano indietro le palline che noi lanciamo per giocare. Ama giocare con adulti e bambini, e ha bisogno di attenzione da parte degli esseri umani per essere felice. Al secondo posto della classifica dei gatti che amano di più giocare con i bambini, c'è il gatto siamese. Questa gatto a pelo corto e dai bellissimi occhi blu, è una delle razze più socievoli tra tutti i felini. Sono in grado di garantire ore di divertimento ai vostri bambini, visto che amano giocare con i giocattoli e fare scherzi mentre esplorano l'ambiente circostante. Sempre in cerca di attenzione, i gatti siamesi tendono a seguire i loro proprietari. Intelligenti e molto portati alla socializzazione, amano interagire e giocare con i bambini e con altri animali, in particolare con i cani. In testa alla classifica dei gatti che sono al loro agio insieme ai bambini, c'è un gatto molto amato in tutto il mondo, il persiano. Il gatto persiano a pelo lungo e dal musetto morbido, è una delle razze di gatti più popolari al mondo, non solo per il suo bell'aspetto ma anche per il suo temperamento calmo e tranquillo. Non è un gatto molto attivo, ma proprio per questo motivo, è un ottimo animale da compagnia per i bambini piccoli che non hanno bisogno di animali attivi per rimanere impegnati. La loro natura gentile, li fa andare d'accordo con i bambini e gli altri animali domestici. E quando il tuo bambino diventa più grande, puoi anche chiedergli di aiutarti a spazzolare e pulire il manto del tuo gatto persiano. Come vedete sono tanti i gatti che vanno d'accordo o sopportano i bambini, anche quelli più vivaci. E voi da bambini avevate un gatto? Giocavate con il vostro gatto? Oppure eravate così insopportabili che il gatto scappava? Raccontateci le vostre avventure da bambini insieme ai gatti, scrivendo un commento a questo video, per dirci anche di che razza era il vostro gatto quando eravate bambini. Interessante questo video, non trovi? Allora fai la cosa giusta, metti un like a questo video ed iscriviti al canale Zooplanet, e per essere sempre informato sull'uscita dei nuovi video, attiva la campanella. A presto da Zooplanet.